Lotta su questo pallone, Gori, Galabinob, allarga, Canotto, Canotto, vuole l'area di rigore, Canotto va in porta, Canotto, rete, 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 Canotto, la regina ai playoff, pazzesco, Inzaghi impazzito, la regina ai playoff, a un minuto dalla fine, la regina ai playoff, la regina ai playoff, tutto il pubblico del granile impazzito, un finale clamoroso.